Buon viaggio da Moversi in Toscana e da Mauro Ciutini. Traffico intenso sulle principali arterie in Toscana sulla 11 tra la barriera di Firenze-Ovest e Prato-Est in direzione Pisa. E sempre sulla 11 il traffico è rallentato anche tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola direzione Firenze. Sulla strada di grande comunicazione la FIPILI consueti rallentamenti allo svincolo di la Strassigna provenendo da Firenze. Traffico rallentato anche sui viali di Firenze in entrata ed in uscita dalla città. Per i lavori a Firenze si segnala al viadotto dell'Indiano, da via Ponte a Greve a via Gori ci sono restringimenti. Lavori fino al 15 di maggio. Moversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze a dopo.